Cioè, fatemi capire, io stasera avevo una festa, e io vi ricordo che è sabato oggi, perché è sabato! E avevo una festa stasera, e sono stato a casa, sono stato a casa per vedere voi che collezionate un'altra sonora figura di merda! Perché questo, questo siete una squadra del cazzo! Siete una squadra di merda! Di merda siete! E adesso, adesso, li riprendiamo tutti i commenti sotto i miei ultimi video, perché io, io, dopo la partita con la Roma di gennaio, ho detto che qua la situazione sarebbe stata tragica, e quello di Pobega al minuto 70 contro la Roma è stato l'ultimo gol per cui io ho esultato! L'ultimo! E sono passati quasi due mesi! Poi arriva il 5-2 col Sassuolo, che io vi ripeto, che si vinca o che si perda, ogni situazione, ogni soggetto, ogni cosa, ricondurrà a quella partita! Poi avete avuto un motino d'orgoglio! Sassuolo, Tottenham, Monza e Atalanta, quattro vittorie! Wow! Wow! Più sconfitte che vittorie nel 2023! Sono anche malato! E poi, per sentirmi dire dai miei tifosi, eh, io capisco il momento, ma tu dovresti esultare quando facciamo gol! No, voi proprio siete fuori fase! Voi siete completamente fuori fase! Voi proprio ragionate col culo! Perché ragionate col culo! Avete visto che, vi ho sempre detto, 1-0, me lo metto al culo! Le cose belle di quando vinci 1-0 con il Monza, sono solo i tre punti! Perché poi, ciò non ti garantisce che tu la partita dopo la giochi bene! E infatti, e infatti, cos'è successo? Successo questo! Quando con l'Atalanta siete venuti a massacrarmi dicendo, eh, vabbè, ma hai vinto 2-0! Anche se hai fatto 15, ti importa? Hai comunque vinto 2-0! E io sì, hai ragione! Però, se poi arriva la squadra che importa, ti ci fa tirare due volte! Che succede? Questo! Questo! Perché noi siamo quella squadra che, per fare un gol, ne deve sbagliare 44! L'ho detto più volte in live, domani lo vedete! Deve sbagliare 44 gol, prima di farne uno! E stasera questa cosa ci è dimostrata! Poi, vi dico che siete una squadra di merda e vi offendete pure! Perché dopo 5 gol col Sassuolo, voi sarete una squadra di merda! Da qui, a tempo indeterminato, sarete una squadra di merda! Questo sarete! Mi dovete fare tre triplete di fila per non essere più una squadra di merda! Ecco cosa! Io il campionato che ho vinto me lo metto al culo! Se devo vedere cose del genere! È un capitolo chiuso! Smettetela di giustificare Pioli perché ha vinto un campionato! Smettetela! Smettete di giustificare Pioli perché ha vinto un campionato! Fatela finita! Pioli ha combinato stasera l'ennesimo pasticcio di quest'anno! L'ennesimo! L'ennesimo pasticcio! L'ennesima merdata delle sue! Non so se ha meno idee lui o chi è in campo! Io posso capire ma cosa cazzo fa entrare Orichi che è un giocatore di merda che segue la linea a metà della squadra che è di merda! Mi fa entrare Orichi che non ha fatto un cazzo da quando è stato comprato anzi da quando è stato ingaggiato perché ovviamente abbiamo preso il parametro zero non ha fatto un cazzo in tutti sti mesi tu pretendi che ti venga a ribaltare una partita con la Fiorentina? Mi togli Benazer Mi metti neanche Franks Neanche Popega Mi metti Bakayoko Mi metti Bakayoko Pioli sei imbarazzante Pioli sei imbarazzante Tutti fissi su certe idee che non hanno un cazzo di senso Non hanno un cazzo di senso Siete una squadra di merda io ve lo continuerò a ripetere che siete una squadra da cani che vi dovete vergognare perché vi dovete vergognare di quello che siete e smettetela di venire a rompermi il cazzo per una vittoria 1-0 smettetela di rompermi il cazzo perché vinciamo 1-0 Basta! Io ve la ricordo la data io ve la ricordo perché io le date le so Milan-Monza 4 a 1 22 ottobre 2022 22 novembre dicembre gennaio febbraio e una settimana e poco più 4 mesi e una settimana che il Milan non segna più di 2 gol in una partita poi uno deve essere contento uno deve mettersi il prosciutto sugli occhi uno deve fare finta di niente finta di niente ci fate voi io non ci faccio io non faccio finta di niente io prima dico che siete una squadra di merda che vi dovete vergognare dovete andare in ritiro e vi dovete ammazzare a tutti perché questo è io a inizio anno non vi ho chiesto niente non vi ho chiesto di raggiungere nessun obiettivo vi ho chiesto soltanto di onorare lo scudetto vinto onorare non significa rivincere significa portarlo con dignità perché a questo punto l'Inter l'anno scorso l'ha portato con più dignità del Milan lo scudetto sul petto che almeno l'ha persa l'ultima giornata che comunque è stato primo per diverse giornate vi rendete conto che l'hanno onorato meglio l'hanno onorato meglio nonostante il campionato scorso passi alla storia per come l'hanno perso l'hanno onorato meglio onorarlo onorarlo vuol dire fare meno figure di merda possibili e invece ne stiamo collezionando una dietro l'altra oltre al fatto che siamo già alla Sassuolo Inter Monza Torino alla sesta partita di ritorno l'unica squadra contro cui abbiamo fatto sei punti è stato il Monza il Monza vi devo ricapitolare tutto un punto su sei con il Sassuolo tre punti su sei con l'Inter tre punti su sei con il Torino quattro punti su sei con l'Atalanta tre punti su sei con la Fiorentina capite perché siete una squadra di merda per questo motivo ciao